La prossima vittime c'è scelta, il mondo della sua fine è preciso, la guida della risottazione, che qualcosa di fondamentale è visto, è poter trasformare un attimo, l'essere sotterente, la terra è nata, è eternità. La prossima vittime c'è scelta, il mondo della sua fine è tutta, la prossima vittime c'è scelta, il mondo della sua fine è tutta, La prossima vittime c'è la sc hardenata, il mondo della sua fine è tutta, La passiamoci 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 Grazie.